Roma, Declan nella casa contro Elio Due e Zilli da Bologna. Ok, Elio Due e Zilli alla mia sinistra, Elio Due e Zilli alla mia sinistra, Roan e K1 alla mia destra. So, DJ Chippo, if you're ready, do it now! K1, come bandit. Ricordo, una entrata a B-Boy. Una entrata a B-Boy, due entrate a coppia. Che al primo fanno melina. Skate. Cominza K-Words! Giu-Fi! Giu-Fi! La Bologna con furore Sovi was she got Beats Boy, Rowan, The Clank Ultima entrata per loro Ultima entrata per loro Qualcuno si è spaventato La risposta Ultima entrata per loro Ok L'abbiamo detto tante volte Purtroppo è dovuto solo al fatto che abbiamo una ristrettezza di tempi Non dipende da noi Purtroppo dopo deve cominciare un'altra cosa La verità è che a Imola non ci aspettavamo la partecipazione di così tanti b-boys Quindi un bell'applauso a chi ha organizzato tutto questo E i team crew Ok E ora se i giudici sono pronti Direi di fare Indovinate un pochino Un 3 2 1 C'è un pareggio C'è un pareggio E quindi ogni coppia Facciamo Perfetto Quindi in poche parole Ok Allora dal momento che devono fare un'altra entrata immediatamente Gli diamo due minuti di pausa Due minuti secchi Sono un atleti questi Dai Vai 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 di qua Vieni Dj Spiega da Uuuuh Osh 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 Ok Dal momento che stiamo facendo gli ottavi di finale E che c'è stato un pareggio Praticamente la sfida è quasi come se ripetesse Perché Hanno fatto solo un'entrata a B-boy E rifacciamo un'entrata a B-boy Quindi due entrate a crew Due entrate a coppia Una a B-boy Intanto vi ricordo che al caffè 900 qua a 4-5 euro vi potete prendere birra e focaccia Inoltre il buono che vi è stato dato a coloro che si sono iscritti al contest è usufruibile anch'esso alla caffetteria 900 qui alla nostra sinistra Colgo l'occasione Per fare un saluto E un ringraziamento ai nostri sponsor Sportime Bar Turista Parrucchieri Contrasti Imola Sport Walk Su Di Castel Bolognese Il caffè di Zolino E WM Impianti Mi ricordo anche Chi sono i nostri giudici che ho presentato quando ancora tante delle persone che sono qui in questo momento non c'erano I nostri giudici sono a partire dalla mia sinistra Crazy Kid da Firenze E poi abbiamo di fronte a me Lil Blade da Pesaro E B-Boy Drop Davanti a me I giudici si esibiranno prima della finale Daranno un'esibizione prima della finale Quindi più o meno domani mattina insomma No Ragazzi Ci siamo Io farei un applauso al DJ che si era dovuto sentare un attimo ma non ci ha messo tanto perché ci voleva far annoiare Ci ha messo un po' perché ha una gamba rotta per cui per arrivare fino al bar ci è andato con la stampella Quindi Non è che Non è che non aveva voglia di correre ma Semplicemente Anche lui è un B-Boy e anche lui si è fatto male Non ballando ma Questo gli ha precluso il ballo purtroppo Temporaneamente ci teniamo a sottolineare Ok DJ Cipo è anche B-Boy Cipo Ok Ok ci siamo DJ Cipo let's start the battle Oh 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 Ciao Grazie a tutti. Cesaro nella casa. Power free. La risposta. Ultima entrata per loro. La risposta di Rohan, the clan. Ultima entrata per loro. Ultima entrata della sfida. Dai. ok 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 questo giro qualcuno se la vince e quindi intanto che i giudici decidano mi anticipo che la prossima sfida sarà combattuta da Kreb e Vici dell'A-Team Crew contro Mix e Henry Lasagna Style ok so now the judges 3 2 1 vincono passano ai quarti di finale B-Boy Ron e B-Boy K-1 from Tyrone represent ok 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 ok